che in apertura delle sue pagine culturali ha un articolo di Alessandro Zaccuri dedicato all'ultimo libro di Ivano Dionigi, che è uno dei più importanti latinisti che abbiamo in Italia è stato per anni rettore all'Università di Bologna adesso ha pubblicato per la terza un libro con un titolo meraviglioso con un motto fondamentale intitolato Segui il tuo demone vediamo cosa scrive Alessandro Zaccuri su avvenire a proposito di questo libro di Ivano Dionigi e cerchiamo di comprenderne il significato e l'importanza che poi ci sarà utile all'interno di questa puntata di pagina 3 tra le molte citazioni che punteggiano il nuovo libro del latinista Ivano Dionigi appunto Segui il tuo demone, pubblicato dalla terza la più sorprendente è forse quella che proviene dalla tomba di Jim Morrison a Parigi il leader dei Doors voluto dal padre della rock star appunto un epigrafe in greco Antico Segui il tuo demone che non allude, specifica come dire Alessandro Zaccuri così mantenendo una certa prudenziale distanza che non allude affatto ai demoni solitamente evocati quando si parla di artisti poeti più o meno maledetti il precetto per cui ciascuno è chiamato a vivere secondo il suo demone invece uno dei capisaldi della sapienza antica e qui verrebbe voglia di fare una piccola chiosa perché se uno va a leggere a proposito di questi temi un librino meraviglioso del grande poeta Heinrich Hein e gli dei in esilio un librino pubblicato anni e anni fa da Delphi beh lì si comprende una cosa cioè quei demoni, diavoli che noi riteniamo tali per l'appunto non sono altro che il prodotto della maledizione che il cristianesimo lanciò contro gli dei antichi e quindi in un certo senso è così e quei demoni, quei diavoli che qui Alessandro Zaccuri evoca per dire non si trattano di quei diavolacci no no, sono proprio dei dei antichi puniti e diventati, trasformati in demoni perché appunto il cristianesimo doveva farne piazza pulita e fra l'altro con un meraviglioso paradosso perché il cristianesimo e il monoteismo lanciando la propria maledizione al politeismo che poi è un'invenzione di Giuseppe Flavio come termine ma insomma lanciando quella maledizione contro il politeismo riconosce una radice politeista in se stesso soltanto dando credito credendo all'idea di tu puoi maledire qualcosa ma insomma questa è una chiusa importante che ci spiega per esempio molto bene Heinrich Heine proprio per iniziare ad affrontare questo libro di Vanno Dionigi Segue il tuo demone di cui Alessandro Zaccuri oggi su Avvenire ci sta parlando quindi Segue il tuo demone riaffiora questo precetto dai frammenti di Eraclito assume centralità indiscussa nell'insegnamento di Socrate così come ci è tramandato da Platone fino alla ripresa sistematica da parte di Cicerone proprio a uno dei maggiori dialoghi filosofici ciceroniani cioè ai confini del bene e del male fa riferimento Ivano Dionigi in questa sua personale rivisitazione dell'etica classica scandita in quattro punti fondamentali dei quali ce ne aggiunge un quinto non meno rilevante e lo stesso Cicerone infatti assancire la necessità di obbedire al proprio tempo seguire il demone conoscere se stessi e rispettare la misura precisando che nessuna condotta potrà mai essere virtuosa ed efficace senza un'adeguata cognizione della natura il demone per l'appunto in questo caso come Daimon un po' come lo intendeva un grande psicanalista del novecento come James Hillman fortunato bellissimo libro il codice dell'anima cioè ciascuno di noi è abitato da un demone da una vocazione da un'identità profonda che sta nascosta come una pallina dorata preziosissima all'interno di noi stessi è compito dell'educazione compito della crescita è provare a far divenire ascoltare quel demone quella voce interiore è il conosci te stesso è il diventa ciò che sei che poi disse Nice in questo senso appunto il demone la divinità che ciascuno di noi è insomma deve trovare spazio e voce non c'è probabilmente altra etica altro concetto di libertà possibile che non la manifestazione di questa voce la manifestazione di questa potenza che ciascuno racchiude quindi più che adeguazione al proprio tempo non è ascoltare il proprio tempo come cronaca di ciò che accade ma invece ritornare a un antitempo un contratempo all'origine di tutto il tempo già rettore dell'università di Bologna scrive Alessandro Zaccuri su avvenire parlando del libro di Ivano Dionigi attualmente impegnato su diversi fronti Ivano Dionigi insiste molto su quest'ultima componente che operando una saldatura fra interrogazione etica e ricerca scientifica permette di dare consistenza politica all'intero percorso politica scrive ancora Alessandro Zaccuri su avvenire politica come condizione comune di cittadinanza e quindi come declinazione pratica della nozione che da Aristote di impoveri riconosce nell'essere umano un animale sociale destinato alla convivenza e alla collaborazione con i suoi simili sempre che il demone ne sia d'accordo l'armonia è complicata di prima acchito il ragionamento di segui il tuo demone sembra muovere da un sentimento di insofferenza i contemporanei non ci sono attuali e questa è una frase meravigliosa che ha scritto Ivano Dionigi all'interno del suo libro rivendicando quindi la necessità di riprendere il dialogo con i classici che oggi più che mai si confermano i grandi competenti in umanità è proprio l'idea fondamentale cioè non c'è nulla di più come dire vecchio che essere moderni cioè che essere contemporanei che rincorrere dei tempi questo già di per sé come dire è già una forma di morte totale invece il ritorno a quella pallina dorata al demone sepolto in noi invece essendo la scaturigine di ogni tempo possibile beh di per sé si libera si libera da questa da questa iattura a questo feticcio della contemporaneità il modello in questo senso scrive ancora Alessandro Zaccuri il suo avvenire rappresentato dalle cerebri lezioni tenute da Max Weber a Monaco tra la fine del 17 e inizio del 1918 nel pieno di un'altra emergenza globale biblicamente descritta con le parole di Isaia ecco proprio quando si fa più drammatico l'interrogativo sentinella a che punto e la notte sosteneva Weber diventa più forte l'imperativo a seguire il proprio demone a riconoscere quanto di più profondo e originario costituisca la personalità e la responsabilità di ciascuno questo come già accennato è il perno di una visione etica che assegna un'importanza non minore al rapporto con il tempo ma che appunto più che il tempo che scorre una specie di abbandono no? al destino un'accettazione quasi taoistica della provvidenza ma insomma questi sono alcuni dei concetti che Alessandro Zaccuri muove all'interno di questo suo articolo che recensisce questo libro di Vano De Onigi Segui il tuo demone allora se siete d'accordo questa mattina al 335 5634